Pace a tutti, buongiorno a tutti. Che il Signore davvero possa in un qualche modo, con la Sua parola, penetrare nei nostri cuori. Io per primo, quando ho ricevuto questo massaggio da parte del Signore. Il Signore tante volte parla sempre in modi diversi, in modi nuovi, con modalità nuove. Non è mai uguale in quello che fa e soprattutto come lo fa. Tante volte un messaggio può arrivare in un lampo, in un baleno e lo scrivi in dieci minuti perché è forte la Sua presenza. Alle volte il Signore ti tocca per giorni e giorni sempre sullo stesso punto, sullo stesso messaggio. Allora capisci che è la Sua volontà. Come il messaggio di oggi è arrivato da una discussione che ho avuto sul lavoro, un confronto che ho avuto sul posto di lavoro. E allora ho sentito questa parola che poi vedremo. E ho detto, cavolo Signore, potrebbe essere motivo di predicazione questo. Allora mi sono detto, bene, lo mettiamo da parte e se così sarà, se il Signore me lo ricorderà quando si avvicerenerà il giorno che è oggi, allora vediamo se farà tornare a galla ciò che mi aveva dato. Bene, il Signore non me l'ha mai fatto abbandonare, ogni giorno mi martellava su questo discorso. E allora dici, Signore, io lo porto. Come ha toccato me, come ha cambiato me, io davvero prego che possa toccare e cambiare voi. Possa convincervi del suo grande amore per ognuno di noi. Perché poi tutto lì è alla fine. Tutto ciò che ci dice, tutto ciò che vuole, è portare il suo amore dentro di noi, affinché noi lo possiamo dare. Quindi, gira di gira, gira di gira, i suoi messaggi alla fine sono concentrati sul suo amore. Sul suo amore da donare agli altri, alle altre persone. I piedi dei miei fratelli lavare, abbiamo cantato. Quanto è bello vedere un fratello, una persona, contenta per un qualcosa che noi abbiamo fatto per lui. Non c'è gioia più grande, però tante volte ce ne dimentichiamo di questa gioia. Non è una gioia che ci soddisfa abbastanza, perché tante volte non lo facciamo, non ci rendiamo conto che c'è tanta più gioia nel dare che nel ricevere. L'ho detto anche un'altra volta, se tu dai al tuo fratello, vuol dire che tu hai. Perché non puoi dare ciò che non hai. E il tuo fratello invece è mancante in quel momento. E allora perché non dare? Perché non ricevere questa gioia nel vedere la gratitudine sul volto di tuo fratello? Non c'è gioia più grande, non c'è gioia più grande, non c'è regalo più grande. E questa mattina il Signore ci vuole proprio parlare di questo, partendo da una nostra particolarità, della quale bene o male tutti ne siamo un po' affetti, della quale un po' tutti ne abbiamo. Ne facciamo parte di questo. E io vi chiedo di andare in Levitico 16, dove si parla dei sacrifici che il popolo di Israele faceva. Levitico 16, guarderemo due pezzi, il primo che fa dal 7 al 10 e poi guarderemo il 20-22, quindi 16-7-10. Dove dice, e queste sono le indicazioni che il Signore dà ad Aronne, dà a Mosè per il suo popolo. Dice, poi prenderà due capri e li presenterà davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno. Aronne tirerà sorte per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale di Azazel. Poi Aronne farà avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore, lo offrirà come sacrificio per il peccato, ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà messo vivo davanti al Signore perché serva per fare l'espiazione per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Poi ancora, dal 20 al 22, quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per l'altare, farà avvicinare il capro vivo. Aronne poserà tutte e due le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di lui tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo che ha questo incarico, lo manderà via nel deserto. Quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in una regione solitaria. Esso sarà lasciato andare nel deserto. Questo è il capro espiatorio, il capro che serve per l'espiazione dei peccati del popolo di Israele. E cosa succedeva? Che il sacerdote, durante il giorno di Kipur, mi sono informato, caricava sul capro, imponeva le mani sul capro e poneva tutti i peccati del popolo di Israele. Uno veniva fatto per il sacrificio nella tenda di convegno per l'altare e uno veniva utilizzato e veniva mandato lontano nel deserto, in una zona remota del deserto e veniva abbandonato lì. Quindi, questo capro veniva caricato dei peccati del popolo di Israele, di tutti quei peccati che tenevano lontana la presenza del Signore. E in senso figurato, il capro espiatorio viene utilizzato parecchio da noi. È un individuo, un gruppo, un'organizzazione scelto per addossargli una colpa. Colpa che può essere vera come può non essere vera. Quindi può essere parzialmente o totalmente innocente questa persona, questa cosa, questa motivazione. Purtroppo, questa ricerca del capro espiatorio è una cosa che un po' tutti facciamo. Almeno io mi sono rivisto in questo, non so se lo fate anche voi, però io mi sono molto rivisto in questo modo di fare, trovare un capro espiatorio davanti alle mie ragioni, davanti alle mie motivazioni. Ed è un qualcosa che avviene fin dall'inizio. È un qualcosa che avviene fin dall'inizio dei tempi. Se andate in Genesi 3, al 12 e 13, sapete bene che cosa fanno Adam e Deva. Sapete bene cosa fanno Adam e Deva e sapete bene, vedrete anche come Adam e Deva rispondono. Ormai sono passi che tutti quanti conosciamo, conosciuti, dove dice, l'uomo rispose alla chiamata del Signore, gli dice, ma cosa hai fatto? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Allora Dio si rivolge alla donna, il Signore disse alla donna, perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha ingannato, io ne ho mangiato. Dobbiamo trovare una motivazione ai nostri errori, dobbiamo trovare una motivazione ai nostri errori, ai nostri sbagli. E quindi scarichiamo il nostro peccato su un capo espiatorio per lavarci, per lavarci dalla colpa, per lavarci dall'errore. dicevo, arrivava da una discussione sul lavoro e tante volte io non sono questo perché quello ha fatto, io non sono arrivato perché questo ha fatto o non hanno capito chi sono, non hanno valutato bene ogni cosa che io ho fatto, non sono riuscito a fare questa cosa perché la tal persona me l'ha impedito, non sono diventato colui che volevo diventare per colpa sua, ma siamo sicuri che è veramente così? siamo sicuri che è veramente così? Che ciò che non non siamo ciò che vogliamo, non siamo non abbiamo avuto ciò che volevamo è veramente colpa di un altro? Prima Samuele 13,8,14 sono tutti passi conosciuti che li avete già sentiti, strassentiti però è bene ricordarli ogni tanto e cosa accade qua? Qua si parla di Saul di Saul davanti a un combattimento davanti a attaccare o non attaccare cosa devo fare? E c'era un modo ben preciso ai tempi di come farlo questo che era quello di chiedere al Signore ma solo i sacerdoti potevano fare sacrificio al Signore ai tempi quindi cosa succede? Egli aspettò sette giorni secondo il termine fissato da Samuele ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi ed abbandonarlo allora Saul disse portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza e offrì l'olocausto aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele Saul gli uscì incontro per salutarlo ma Samuele gli disse ma che hai fatto? Saul rispose siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i filistei erano radunati a Mikmas mi sono detto ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore così mi sono fatto forza e offerto l'olocausto allora Samuele disse a Saul tu hai agito stoltamente non hai osservato il comandamento che il Signore il tuo Dio ti aveva dato il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre ora invece il tuo regno non durerà il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore e il Signore ha destinato a essere principe del suo popolo poiché tu non hai osservato quelli che il Signore ti aveva ordinato mi sono fatto forza e ho fatto il sacrificio per te tu non arrivavi tu non arrivavi quindi è colpa tua se tu arrivavi qua era tutto a posto il Signore cosa dice hai agito stoltamente hai agito stoltamente perché Lui è arrivato quindi non puoi caricare l'altra persona di un errore tuo perché tu non sai perché Lui è ritardato ma il Signore arriva arriva quando è ora e arriva quando vuole Lui non quando vogliamo noi ed è stato l'inizio della sua discesa è stato l'inizio della sua scendere verso il fondo scendere più sempre più nel fango troviamo sempre un capo espiatorio in quello che facciamo troviamo sempre un capo espiatorio quando non funziona come vogliamo noi non funziona perché Lui non ha capito non funziona perché non ha compreso non funziona perché non mi hanno dato i mezzi quante volte l'ho detto anche a lavorare purtroppo io sono molto bravo in questo H1000 poi lo sa c'è alcuna giustificazione nei miei errori c'è alcuna giustificazione in quello che faccio che non 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 porta il risultato voluto sbagliatissimo sbagliatissimo e dobbiamo stare attenti perché fare questo è un po' come lavarci nelle mani ci vogliamo lavare le mani del problema che è stato quello che si è lavato le mani Ponce Pilato Matteo 27 24 ci vogliamo lavare le mani dalle nostre colpe lavare le mani dalle nostre responsabilità Matteo 27 24 Pilato vedendo che non otteneva nulla ma che si sollevava un tumulto prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla dicendo io sono innocente del sangue di questo giusto pensateci voi quando diciamo a qualcun altro che non siamo riusciti per colpa di qualcun altro facciamo proprio questo ce ne laviamo le mani e diciamo pensaci tu perché io non so proprio cosa farne perché io avevo le capacità potevo fare ma lui mi ha fermato io me ne lavo le mani la mia responsabilità finisce qua Ponce Pilato aveva la possibilità di liberarlo è chiaro che il piano del Signore è più grande ma Pilato poteva liberarlo e non ha voluto ha volontariamente rifiutato di farlo per paura di un tumulto per paura che ci fosse una ribellione da parte del popolo e se ne lava le mani non a caso ho preso questo 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 riferimento col sacrificio di Cristo perché in un qualche modo noi stiamo mentendo stiamo mentendo perché non analizziamo veramente il perché ciò è accaduto perché parte della nostra responsabilità è sicuramente compresa l'atteggiamento dell'altra persona pensateci rifletteteci perché è così perché se io non sono arrivato dove volevo arrivare per colpa di qualcuno non è che per caso questo qualcuno l'ho indotto a sbagliare io non è che per caso questo qualcuno ha avuto un certo tipo di comportamento perché l'ho avuto io per primo con lui non è che questo qualcuno è stato portato all'errore e io ho analizzato la mia vita la risposta è sempre sì poi io non so però la risposta è sempre sì quindi quando dico che è colpa di qualcun altro io sto mentendo perché non è solo colpa di qualcun altro ma in mezzo c'è anche la mia c'è anche la mia responsabilità in questo e rendiamo nullo il sacrificio di Cristo perché noi non possiamo giustificarci dietro il comportamento dell'altro ma dobbiamo andare ai piedi della croce per essere risanati ristabiliti e perdonare se qualcuno ci ha fatto qualcosa noi siamo responsabili dei nostri gesti e il Signore ha compiuto ogni cosa ci ha donato ogni cosa ci ha donato la pienezza la pienezza con quel sacrificio il Signore ci ha dato tutto ciò che ci serve per affrontare i nostri problemi per affrontare i nostri dolori per affrontare questo nostro senso di frustrazione ci ha dato tutto ciò che ci serve perché è morto sulla croce è stato flagellato per questo e quindi dobbiamo stare veramente attenti perché ci ha dato ogni cosa lui dice venite a me venite a me e io vi riempirò cosa ti manca che non hai cosa ti manca che non hai te lo do dimmi cosa vuoi che te lo do ti voglio riempire con il mio amore ti voglio riempire con quello che sono ti voglio riempire con la mia natura che è l'unica cosa che ti deve interessare perché ti posso far volare in alto in alto nei cieli non ti nascondere dietro a a qualcun altro qualcosa al tempo non mi muovo perché oggi piove dicevamo oggi in macchina con mia mamma cioè non ci giustifichiamo perché rendiamo vano il sacrificio di Cristo rendiamo vano il sacrificio della croce e perché ci ha dato tutto tutto ciò di cui avevamo bisogno e quindi se era sbagliato nell'antico testamento un comportamento del genere figuratevi ora è ancora peggio perché il Signore è venuto come sacrificio per il sacrificio completo di tutti grazie a Dio che non dobbiamo più sgozzare agnelli e capri e tori perché sarebbe un fiume di sangue qua ragazzi sarebbe un macello perché perché tante volte non ci rendiamo conto proprio per questo non ci rendiamo conto di quante volte sbagliamo anche nei nostri piccoli comportamenti quante volte facciamo dei piccoli errori che possono portare davvero a qualcosa sempre di più grave Saul con quell'errore è iniziata la sua discesa era il re di Israele che Israele aveva voluto e da lì inizia la sua discesa e quindi in un qualche modo noi ci riteniamo giusti ci riteniamo giusti ma andiamo a vedere in prima Giovanni cosa dice e lo sapete lo sapete bene Giovanni 1.8 prima Giovanni 1.8 se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi tra pac caspita se lo analizziamo è pesante è pesante perché dice la verità non è in noi chi è la verità è il Signore è lo Spirito Santo e quindi dobbiamo stare attenti ma ricordatevi che il Signore non è venuto a giudicare è venuto a rialzare primo Giovanni 1.10 dice e se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo e la parola non è in noi torniamo alla vanificazione del sacrificio della croce torniamo lì ma se andiamo in prima Giovanni 9 che sono sempre lì se me lo leggete se qualcuno me lo legge che non ce l'ho cosa dice prima Giovanni sempre l'1.9 sempre lo stesso prima gloria a Dio gloria a Dio perché così è così è vuole semplicemente che riconosciamo non ci chiede nient'altro se non di riconoscere e se riconosciamo i nostri peccati egli è fedele giusto e perdonerà i peccati ci purificherà da ogni colpa ma quale grande promessa è questa ma quanto mi sento più leggero dopo una parola del genere ma prima bisogna riconoscerli prima bisogna riconoscerli prima bisogna smettere di cercare un capo espiatorio in questo in questo caso e le dicevo io purtroppo sono uno che spesso e volentieri deve trovare a giustificazione i suoi errori perché se no vuol dire che ho sbagliato e l'orgoglio fa fatica a farti dire che hai sbagliato l'orgoglio è sempre lì che macina sotto chi più chi meno per l'amor del cielo e spero che ci sia qualcuno di voi che sia molto meglio di me però c'è sempre quel qualcosa c'è sempre quel qualcosa da togliere come bisogna non eccedere nell'altro senso perché ci sono stati anche momenti parlo nella mia vita di cui io mi sono caricato autocaricato di colpe problemi che non erano miei questo è l'altro grosso problema e questi problemi ti schiacceranno perché non sono tuoi non sono tuoi in ogni cosa il Signore ci chiama l'equilibrio a quel santo equilibrio di comprendere di andare davanti a lui di comprendere ciò che possiamo fare noi ciò che possiamo cambiare noi come cosa c'è in noi che non va che può essere trasformato affinché gli altri possano ricevere affinché gli altri possano essere attirati dalla presenza del Signore abbiamo detto sacrificio per alzazel non ce l'ho mai fatto caso che le sacrificio per alzazel ma chi è alzazel ma sono andato a vedere chi è sto alzazel è il Dio del male è Satana quindi venivano rispediti al mittente tutti i peccati venivano rispediti ad alzazel tutti i peccati del popolo di Israele quindi stiamo attenti quando cerchiamo un capri spiatorio stiamo attenti perché in quel momento visto che il nostro orgoglio è il motore di spinta e diciamo è colpa di quell'altro in un qualche modo in quel momento è come se avessimo passatemi la parola comunione con alzazel stiamo attenti a quello che facciamo e questa è la cosa grave perché comunque in quel momento sfogandoci con gli altri carichiamo la persona che cosa ho detto che era parzialmente o totalmente innocente ho detto all'inizio di un qualcosa che non ha perché magari il suo comportamento è derivato da un vostro comportamento da un nostro comportamento quindi dobbiamo stare attenti perché rischiamo di contaminare le altre persone intorno a noi col nostro modo di fare di lavarci dai problemi perché se io al mio collega di lavoro gli dico io non ci sono riuscito perché lui non ha compreso perché lui non mi ha capito perché lui non è in grado perché lui non conosce non sa l'altro cosa fa è Dio in effetti lui però queste cose non le sa in effetti questa persona comincia a vedere l'altra persona in un occhio diverso in un modo diverso colui del quale tu hai scelto che il tuo capo espiattore diventa il tuo nemico pensateci colui che ha fermato la vostra corsa è diventato il vostro nemico e cosa dici signora? amati i vostri nemici allora come fai per poterlo amare questo tuo nemico colui che ha fermato questa tua corsa è comprendere prima di tutto che all'interno di questo problema c'è una tua responsabilità se tu comprendi questo l'attenzione cambia la concentrazione cambia dalla persona a te stesso dici cavolo però lui si è comportato così perché io potevo essere più gentile però con lui lui si è comportato così ma se io gli avessi spiegato bene quello che sto facendo forse avrebbe compreso le mie conoscenze se io mi fosse avvicinato con amore allora forse lui mi avrebbe risposto con amore capito che capite che l'obiettivo diventa completamente un altro il target cambia completamente a quel punto ami puoi amare l'altra persona perché ti rendi conto delle mancanze dell'altra persona ti rendi conto che molto probabilmente ciò che ha fatto l'altra persona è dovuto anche al tuo comportamento e quindi provi compassione e allora puoi amare l'altra persona pensateci nelle vostre discussioni davvero vi chiedo quando andrete a casa di pensare ai vostri comportamenti durante le vostre discussioni c'è qualcosa che io potevo fare per evitare quella discussione c'era qualcosa che io potevo fare affinché le cose andassero diversamente secondo me tutti quanti diciamo di sì parliamo di umiltà parliamo di umiltà ma questa è la vera umiltà di analizzarci alla luce del Signore non alla luce del nostro io e comprendere che siamo tutti sbagliati comprendere che comunque il nostro comportamento è sbagliato e ti spinge a sbagliare e spingi le altre persone a sbagliare l'umiltà è riconoscerlo e allora sì saremo umili e sottomessi gli uni agli altri e allora sì che saremo umili e sottomessi al Signore perché avremo visto dentro di noi ciò che non va e avremo confessato a Lui ciò che non va e Lui sarebbe arrivato cosa vi ho detto cos'è che vi manca per essere felici cos'è che vi manca e il Signore te lo dà ma prova a analizzare dentro di te cosa può essere stirpato per opera del Signore e Lui farà cambio prenderà la tua colpa prenderà il tuo problema e ti riempirà col suo amore beati coloro che si adoperano per la pace dice in Matteo 5.9 è questo che il Signore vuole che ci adoperiamo per la pace è questo che il Signore vuole da noi che amiamo tutti e che non cerchiamo sempre di scaricare la nostra responsabilità sul comportamento di un altro ma dobbiamo essere noi i primi dobbiamo essere noi i primi ma il Signore ci vuole coraggiosi ci vuole coraggiosi e il Signore è qui per rialzarvi per donarvi gioia e felicità il Signore arriva con la lente di ingrandimento per farvi vedere questa piccola cosa ma per lui importantissima perché può cambiare il vostro modo di vivere può cambiare il mio modo di vivere e quindi può riversarti della sua gioia del suo amore può riversarti tutto ciò che è la sua natura è questo che vuole è questo che vuole da noi il Signore vuole alzarti non vuole schiacciarti non vuole appesantirti dice si te l'ho fatto vedere ma ora cambia dammelo apri il tuo cuore e io opero sposta questa giacca sposta questo vestito e io opero il Vangelo di Luca alza la tua mano e la tua mano sarà guarita è questo che lui vuole fare vuole che riconosciamo i nostri errori vuole che riconosciamo ciò che non va vuole che riconosciamo ciò che siamo e allora potremo perdonare i peccati gli uni degli altri allora potremo perdonare i comportamenti gli uni degli altri e allora potremo guardarci in viso con amore gli uni gli altri in famiglia sul lavoro nella chiesa ovunque perché noi per primi possiamo cambiare se noi camminiamo nella luce gli altri lo vedono no? mi ha sempre detto ma quanto camminiamo un piede un po' nell'ombra e un po' nella luce questo qua nell'ombra intanto ci fa comodo a dire io avevo ragione e poi torniamo nella luce io avevo ragione è colpa sua come possiamo fare questo? cosa ho detto prima? c'è più gioia nel dare che nel ricevere e se vogliamo dare per ricevere dobbiamo essere riempiti e se vogliamo essere riempiti dobbiamo fare posto a ciò che è suo e togliere ciò che è nostro analizziamo i nostri responsabilità analizziamo i nostri problemi analizziamo ciò che ci succede durante il giorno alla luce di Dio sotto la parola di Dio e allora le cose potranno cominciare a cambiare avete discusso provate a pensare perché avete discusso non avete ricevuto provate a pensare perché non avete ricevuto se in un qualche modo anche voi potevate fare qualcosa per ricevere questo non c'è giudizio non c'è condanna ma solo ristabilimento il Signore ci vuole ristabilire sulla giusta via ci vuole riportare sulla giusta via sulla giusta rotta a me è servito molto questo a me è servito molto questo messaggio perché mi ha fatto veramente rendere conto delle mie delle mie piccole miserie mi ha fatto veramente rendere conto di quante volte io potevo evitare discussioni con i miei comportamenti quante volte potevo avvicinarmi per primo al problema e rispondere in un altro modo quante volte sono stato io a portare all'errore ma grazie a Dio che c'è un Signore che si è sacrificato per me perché altrimenti a questo punto dovrei essere schiacciato dal peso e dal rimorso e invece no e invece no perché il Signore ti dà la gioia di confessaglielo ti dà la gioia di portare ai piedi della croce ti dà la gioia di toglierlo dalla tua vita beati coloro che si adoperano per la pace e mi dispiace dirlo ma non c'è nessun giusto qui mi dispiace ma non c'è nessun giusto perché ognuno di noi ognuno di noi chi meno chi di più cerca giustificazione nei suoi comportamenti da ciò che deriva da un altro ma il Signore ti ha dato tutta la pienezza e te l'ha data completamente vuoi vedere le cose cambiare prega per questa cosa prega per queste cose e le cose cambieranno le cose si trasformeranno non cercare delle motivazioni alla tua sofferenza l'unica motivazione sei tu alla tua sofferenza l'unica motivazione alla mia sono io perché invece di andare ai piedi della croce accuso un qualcosa un qualcuno quante volte viviamo stati d'ansia quante volte viviamo stati d'ansia e da dove deriva quest'ansia si il nemico ci marcia sopra prende ciò che è vero e te lo trasforma ti fa vedere cose per altre ma lo stato della tua ansia sei tu lo stato della mia ansia sono io non c'è altra motivazione perché io devo andare ai piedi di quella croce essere riempito rivestito bagnato lavato di quel sangue meraviglioso non posso lavarmi nelle mani non posso lavarmi nelle mani da ciò che io faccio da ciò che io sono ma devi invocare il suo meraviglioso nome è solo questo che noi dobbiamo fare signore vieni in me vieni in mio soccorso perché dice la sua parola che lui arriva tu chiedi ti sarà dato e allora perché tante volte continuiamo a rimanere nei nostri dolori nelle nostre sofferenze per poi dire eh non ho non mi è stato dato non hanno capito non hanno visto non mi hanno dato e il signore ci vuole umili umili di cuore e quindi questa mattina vi chiedo davvero di alzarvi tutti di alzarvi tutti perché ritengo che ognuno di noi abbia il suo piccolo piccolo grande che sia ma ognuno di noi io sono certo che può fare di più può fare qualcosa di più per procacciare la pace per avere quella libertà per avere quella veramente per poter strappare via quel peso dentro di noi per cambiare le cose per cambiare le cose nella sua vita per cambiare le cose nella vita di altri tante volte lo dico però questo questo magnetino ormai mi ha toccato particolarmente dove dice che se tu preghi per qualcuno attenzione che molto probabilmente tu fai parte di quella preghiera perché tu ti devi muovere per quella persona per quel qualcosa qui è uguale quando quando diciamo questo o quell'altro noi facciamo parte di questo o quell'altro perché il signore ci vuole parte uno dell'altro e quindi non possiamo pensare che noi ne siamo esenti da ogni problema da ogni errore non possiamo esserne esenti e lavarci nelle mani non possiamo lavarci nelle mani e se non sappiamo come fare il signore è lì per guidarci il signore è lì per condurci davvero analizzate le vostre vite questo sarà una grande accelerazione per i vostri ministeri questa sarà una grande accelerazione per ciò che siete in Cristo questa sarà una grande accelerazione per il suo regno e quindi davvero vi invito a questo vi invito a questo perché la vostra vita può veramente cambiare d'ora in avanti il vostro atteggiamento può veramente cambiare d'ora in avanti ma lo dobbiamo volere io lo voglio io lo voglio io lo voglio questo perché io voglio accelerare in questo voglio smettere di nascondermi dietro un dito quando le cose non mi vanno bene voglio smettere di vedere le cose in questo modo e il signore riempie il signore riempie il signore ti tocca il signore ti coccole il signore ti porta avanti grazie signore Gesù lode a te il tuo nome signore grazie signore perché il tuo amore è immenso signore Gesù davvero tu possa portare ogni mio fratello oltre le nuvole questa mattina signore non solo questa mattina ma i giorni a venire tu lo possa veramente far accelerare nella loro vita signore possa davvero il loro ministero correre correre sempre di più che davvero la tua la loro dipendenza dal tuo spirito sia sempre più completa e allora la tua luce risplenderà nelle loro vite completamente non ci sarà ombra che possa oscurare non ci sarà macchia che possa in un qualche modo oscurare la tua luce signore Gesù io ti lodi e ti benedico signore perché tu mi hai mi hai dato questo signore mi hai rivelato questo per la mia vita signore davvero fa che quando cado possa ricordarmi di non lavarmi nelle mani possa ricordarmi di non prendere un capo espiatorio davanti ai miei comportamenti signore ricordami ricordami questo signore che ogni mio fratello se ne possa ricordare e le cose cambieranno e il tuo amore fluirà e il tuo amore cambierà il tuo amore laverà e il tuo spirito laverà dentro i cuori di ogni ogni membro in questa chiesa signore e tutta quest'acqua che laverà toccherà tutto il resto toccherà tutte le loro vite tutti coloro che circonderanno oh grazie signore Gesù grazie per la forza che tu stai riversando in ogni mio fratello tu stai toccando ogni mio fratello e tu riversi dentro di loro la tua forza signore ti vorrei intercedere per uno a uno di questi miei fratelli signore per uno a uno di questi miei fratelli davvero che tu possa stendere la tua mano su ognuno di loro signore sulle loro vite sui loro familiari su tutti coloro che li circondano davvero tu possa tu possa veramente toccare le loro vite la loro benedizione sarà la mia benedizione signore il signore ti dice io ti amo io ti amo ti voglio sempre di più mio ti voglio sempre di più mio ma la mia verità è pura e io ho bisogno che tu sia puro quindi viene a me che io ti rivelo viene a me che io ti dono ti tolgo e ti dono viene a me perché io posso riempire quei vuoti della tua vita posso rivelarti cosa c'è che non va nella tua vita posso rivelarti come ritornare sulle nuvole il signore ti dice questo questa mattina fidati di lui fidati di lui e lui riempirà la tua vita a me